Ciao amici, me ne vado, buon weekend, ciao Carlo Olè, iniziamo? Oggi Radio 105 Ah no aspetta, inizia da soltanto mangiare dal mio più caro amico Nico Qui si parlava della relazione che bisogna avere con la propria ragazza Della relazione che bisogna avere con gli amici Della relazione che bisogna avere con tutte le cose che ti stanno attorno C'è solo una parola per me che rappresenta tutto il rapporto che bisogna avere con le cose È il lavoro Sono stato in Olanda e ho fatto 1400 foto qua Quando tre anni fa consegnavo curriculum a tutte le radio Lui era sempre qua da accogliere i miei curriculum nel paziente Pensa che sfiga Oh no, bello Tiro Yeah, let's run, let's run, let's run Oh no, ciao Thanks, God, it's Friday A Radio 105, questa è 105 Music in Cars e noi ci stiamo preparando, stiamo preparando il club Caramella Club Bravo Benvenuto al Caramella Mi sorella Da E Porta La 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 Globo La La dinamite palestra balla anche tu e come no devi crederci ma devi crederci veramente tu più di tutti gli altri l'idea di voler fare qualcosa e di crederci davvero è importante però il rischio che questo possa essere una follia la linea è molto sottile devi avere comunque anche dei motivi concreti per poterlo fare che tu pensi di avere dobbiamo essere imprenditori di noi stessi perché è l'unico modo secondo me per riuscire a raggiungere poi degli obiettivi chiaramente poi c'è la passione, c'è l'arte c'è la creatività, c'è tutto questo però devi essere veramente, devi avere una precisione e una professionalità che va al di là poi della solita roba del tipo io in questo sono bravo lo faccio prossima data Alphabric Sean Paul il 17 aprile io ci sono io anche bella grazie Fabio grandissimo e vivo il Fabric